La prima idea sbagliata è quella che ci sia qualcosa da dover fare l'unica cosa che si deve fare è chiedere il consenso chiedere espressamente a una persona che vuole essere nominata che vuole essere chiamata banalmente cioè esplicitare queste difficoltà parlarne questo crea poi abitudini condivise e non offensive o sgradite per qualcuno tutto qua tutto semplicemente qua non ci sono regole da seguire perché non esiste un ente supremo che ha deciso come ci si regola con il linguaggio con il vestire per essere rispettosi di genere non è mai esistito e non esiste è un'emergenza che sta venendo dal basso e quindi da una richiesta di sempre più persone se non altro di essere come dire considerate e quindi l'unica abitudine da prendere è quella di chiedere come vuoi essere chiamata cosa ti rende più gradevole questo ambiente cosa preferiresti che non ci sia o che ci sia questo tutto semplicemente qua vale per il linguaggio come per il vestire come per le abitudini come per i gesti qualunque cosa chiediamo espressamente cosa gradisce l'altro cosa l'altra cosa vuole come vuole essere chiamata come vuole essere trattata tutto qua tutto semplicemente qua e qui grazie